La nuova Citroen AX Diesel sta per battere il record di accelerazione della sua categoria. Poi si fermerà qui davanti a noi per mostrarci i suoi favolosi interni. Ma dove va? Ferma! Dopo la prova di maneggevolezza AX si fermerà qui per mostrarci lo spazio e il comfort dei suoi interni. Ma no, ferma! Al termine della prova di consumo potremo ammirare l'immensità degli interni di AX Diesel. Capo, fa 1200 chilometri con un pieno. Citroen AX, grande anche nel diesel. Per vincere mi impegno sempre al massimo. Ho vinto. Ho vinto anche con i miei capelli. Ne perdevo qualcuno, ma il trattamento Dercos mi ha aiutato a frenare la loro caduta. Ecco come agisce. La molecola solforata riduce l'eccesso di sebo. Il liquido amniotico stimola e nutre la radice. Il trattamento rinforzante Dercos contribuisce a combattere la caduta dei capelli e ne favorisce la normale crescita. Trattamento cosmetico rinforzante Dercos. Perfetta. Dino R. Collofit. Collofit? Sì, collofit, giusto collo, come la mia. Credetemi. E se va bene a me, buona camicia a tutti. Dino R. Proprio una camicia coi baffi. Dai papà! Dai papà! Su. Aspetta! Ciao papà! Ciao papà! Ce l'ho ammessa tutta. Tu sei sempre il mio campione papà. Pagine gialle. Pagine di vita quotidiana. Pagine di vita quotidiana.